Con Mr. Donati, prima settimana del tiro qui a Sefro, facciamo questo primo bilancio? Bilancio sicuramente positivo, perché i ragazzi hanno lavorato molto bene, sia l'amichevole che abbiamo fatto, ma anche gli allenamenti che abbiamo affrontato, li hanno affrontati tutti con grande intensità, grande voglia di mettersi in mostra e di allenarsi bene, quindi per me questa è stata la cosa più importante, adesso domani avranno un giorno libero perché se lo meritano, dopo quello che hanno dato e da lunedì si riparte. Oggi test in famiglia, causa l'annullamento del test con la regina, come è andata? Ma è andata bene, nel senso è logico che preferivamo fare una partita contro una squadra importante, però cercheremo di riorganizzarla nei prossimi giorni perché ci teniamo a fare un test del genere, però l'amichevole tra di noi oggi è stata tirata, divertente, ma i ragazzi l'hanno affrontata sempre con lo stesso spirito, battagliero, con voglia di vincere, voglia di applicare le cose, quei concetti che ho dato in questa prima settimana, quindi sono soddisfatto.